Molto spesso, dopo un evento traumatico che coinvolga la caviglia, può insorgere artrosi. Si tratta di una malattia invalidante che ha un profondo impatto nella vita quotidiana. A seconda delle scuole di pensiero ci sono due interventi risolutivi. Artrodesi, ossia la fusione dell'articolazione a 90 gradi. Protesi di caviglia, ha l'obiettivo di preservare movimento e funzione dell'articolazione. Con entrambi gli interventi si può riprendere a camminare senza dolore, ma è importante sapere quale strada si vuole percorrere, sia a piedi o in moto, per esempio. Sono Federico Usuelli, chirurgo della caviglia del piede. Grazie a tutti.